L'abbigliamento Scarica stampa il materiale per continuare con le lezioni. Istruzioni A1 Come ti vesti per andare a scuola? Come ti vesti per andare al lavoro? Ciao ragazzi! Di solito per andare al liceo indosso una camicia bianca, un pantalone nero oppure dei jeans colore blu. Non uso la cravatta ma mi metto la giacca azzurra e delle scarpe nere. Per andare al lavoro mi piace vestire in maniera comoda ma elegante. Indosso un vestito colore verde e delle scarpe da tennis molto comode. Non mi piacciono le scarpe a tacco ma a volte le devo usare. A2 Vocabolario Abbigliamento ed accessori Camiccia Camiccia Giacca Camiccia Giacca Maglietta Maglietta Maglione 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 Jeans, scarpe da tennis Stivali Scarpe, scarpe, scarpe con il tacco Scarpe con il tacco Sandalie, sandalie Reggiseno Mutande Reggiseno Mutande Sharpa Sharpa Berretto Orologio Berretto Orologio Occhiali Berretto Occhiali Berretto Borsa Borsa Zaino Zaino Braccialetto Braccialetto Orecchini 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 Anello 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 Cintura 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 Ombrello 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 Cappello 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 Occhiali da soli Occhiali da soli Cappello Cravatta Cravatta 24 ore 24 ore Negozio di scarpe B1 Parole utili per parlare di abbigliamento Di solito indosso una camicia bianca Di solito Di solito Indosso Indosso Non uso la cravatta Ma mi metto la giacca azzurra Non uso Non uso Mi metto Mi metto Ciao ragazzi Di solito Per andare al liceo Indosso Una camicia bianca Un pantalone nero Oppure dei jeans colore blu Non uso La cravatta Ma mi metto La giacca azzurra E delle scarpe nere Mi piace vestire In maniera comoda Ma elegante Vestire Vestire Ma Ma Indosso Un vestito colore verde E delle scarpe da tennis Molto comode Indosso Indosso Non mi piacciono le scarpe col tacco Ma a volte Le devo usare Non mi piacciono Non mi piacciono Le devo usare Le devo usare Per andare al lavoro Mi piace vestire In maniera comoda Ma elegante Indosso Un vestito colore verde E delle scarpe da tennis Molto comode Non mi piacciono Le scarpe col tacco Ma a volte Le devo usare B2 I colori Rosso 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 Nero 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 Bianco 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 Verde Verde Giallo Giallo Blu 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 Arancione 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 Rosa 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 Viola 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 Marrone 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 Grigio 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 B3 Verbi utili per parlare di abbigliamento Indossare 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 Io indosso Tu indossi Lui indossa Lei indossa Noi indossiamo Noi indossiamo Voi indossate Loro indossano Io indosso Delle scarpe da tennis Vestire Io vesto Tu vesti Lui veste Noi vestiamo Voi vestite Loro vestono Io vesto Tu vesti Lui veste Lei veste Noi vestiamo Voi vestite Loro vestono I fotografi vestono con magliette grigie? Usare Io uso Tu usi Lui usa Lei usa Noi usiamo Voi usate Loro usano Io uso Tu usi Tu usi Lui usa Lei usa Noi usiamo Voi usate Loro usano Di solito Di solito Io non uso La borsa Portare Io porto Tu porti Lui porta Lei porta Loro portano Loro portano Mario porta Gli occhiali da sole Come ti vesti per andare a scuola? Come ti vesti per andare al lavoro? Uoso Tu porti Gli occhiali da sole Chi Loro portano Loro portano Roppa Loro portano Nenuno Quaci Loro portano Grazie a tutti